Stefania Orlando, che ne pensa del Carnevale di Sciacca? Ha già avuto modo di vedere Carri? Allora, intanto è bello che sia a fine maggio e si festeggi il Carnevale, perché ormai a febbraio non lo festeggia più nessuno. E invece a maggio c'è questa ritrovata allegria, quindi mi piace molto questa idea. Poi a Sciacca, devo dire, non c'era mai stata. È una città meravigliosa, molto curata, gente straordinaria, così come in tutta la Sicilia. E i Carri li devo ancora vedere, però a qualcosa ho spiato, devo dire, sono fantastici. La città cosa ne pensa? La città è molto bella, come dicevo, è molto ben curata. Tanti fiori, tanta gente che ti accoglie. Ho mangiato benissimo, ma poi mi piace proprio questo tenere la città così come uno terrebbe casa propria. Si vede che la gente ama questa città. Grazie a tutti.